finalmente al san nicola gara casalinga dopo ben due trasferte entrambe vittoriose la formazione di mignani vede il talismano simone simeri conquistare finalmente la maglia da titolare a completare il trio d'attacco mirco antenucci rubem botta un giro di lancette e proprio loro due sbloccheranno il match con una insidiosa paganese percussione del bomber molisano sul quale prova ad opporsi il difensore murolo ma in vano sfera che torna mirco antenucci che disegna un tracciante per rubem botta il destro dell'argentino batte l'estremo baiocco 1 a 0 lampo del bari la reazione dei campani cretella il tiro cross pericolosissimo non impeccabile gigi frattali ci mette una pezza belli gara molto godibile del rico innesca botta difesa campana sguarnita palla che finisce a mattia maita la doppia chance per il centrocampista bianco rosso finale di tempo decisamente incandescente prima l'espulsione di raffaele bianco colpo proibito rifilato a cretella e contestuale ammunizione del paganese castaldo un minuto dopo ed è calcio di rigore procurato da valerio di cesare atterrato in aria da schiavi dal dischetto mirco antenucci contro l'estremo baiocco che si ergia gran protagonista per questa miracolosa deviazione complice la traversa match tutto in salita dopo l'espulsione del rigore fallito mignani ridisegna il suo dieci in campo sostituendo antenucci e botta con mallamo e che dirà simeri scuote i suoi l'accelerazione il tiro sul primo palo la risposta in questo scambio aereo castaldo piova cari vola frattali in corner doppia chance per gli ospiti la traversa colta da tissone dai 30 metri sugli sviluppi miracolo di gigi frattali ma l'inerzia è ormai invertita e la formazione di grassa donia raccoglie i frutti della superiorità numerica 3 contro 3 in rapida ripartenza pallone che finisce a marco firenze il cui diagonale finisce alle spalle di frattali bari è però reattivo dopo il pari paganese i tentativi di derrico e simeri sono insistiti e trovano un ottimo baiocco ad opporsi il risultato non si schioda e nell'ottica del se non puoi vincerla vada almeno a non perderla può ritenersi un passo avanti in vista dell'infrasettimanale a messina questo rocambolesco match lascia l'eredità di un espulso e diversi ammoniti ma una aspirante capolista deve saper affrontare anche queste situazioni tipiche di un campionato come quello di serie c sponda meridionale